ciao a tutti i cucciolotti e cucciolottini e oggi faccio vedere come si scarica fortnite siccome è uscita muta c'è mia sorella i disegreni e oggi farò come si scarica fortnite cioè dove si scarica allora non lo farò vedere tutto il video allora dovete ammarcare qua google c'è la mia sorella si chiama elisa e io giorgia allora dovete ammarcare cioè dovete scrivere apk pure pure apk pure l'ammaccate poi ammaccate c'è qua cate d'orland d'orland c'è ma ammaccate questo blu e oggi ho fatto questo video che è uscito ieri fortnite non ho potuto farlo ieri e quindi oggi l'ho fatto vedere come si scarica fortnite però ma non si fa quindi forse a voi vi si farà poi mettete qua fortnite e beh vi spunterà perchè è già e mancate per cosa e già avete fortnite ok ciao e poi vi registrate ok bye bye ciao